Il grande problema del Paese è la disoccupazione e la necessità di creare posti di lavoro. Non vediamo, nello schema della manovra per il momento illustrata da ieri dal Presidente del Consiglio, un intervento che vada in questa direzione. E pensiamo che una serie di risorse che sono state indicate, se andassero invece in direzione diretta di investimenti e quindi creazione di occupazione, potrebbero avere un effetto positivo. Un mix di riduzione fiscale per alcuni e taglio della spesa ci pare che ci manterrà nello stato recessivo di cui vive oggi il Paese.